siamo fuori siamo fuori della coppa un giorno tristissimo ma nessuno glielo dice poi capito perché però si crede che moce non così è bene capito oh mai non ci credo voglio assediato la macedonia ragazzi non ci voglio credere ragazzi non ci si va bene ma questa è colpa di donna ruma però adesso per me donna ruma non l'ha vista ma ragazzi il primo tiro ma ci rendiamo conto che cazzo poi è il 92esimo 93esimo è il falo di mano dicono no ma come si fa ma come si fa i nolli sono 13 come si fa hanno dimondiato l'ora non lo so vergogniamoci mamma non lo so voi stiamo scherzando ma che fai le manci ma che fai oh ma abbiate con la mano però eh l'ha preso con la mano e mani e mani dalla eliminazione da questo playoff mondiale ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando se non è l'ha presa con le mani c'è un tiro hanno fatto di uno no ma infatti pensate a una partita alla volta non ci credo 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 ti prego dimmi che l'ha preso portata avanti con la mano ti prego signore dimmi che ti prego dimmi che l'ha portata avanti con la mano ti prego che è inutile vergogna vergogna vergognatevi abbiamo fatto c'è l'italia che salta due mondiali di fila dal campione d'europa però porca troia un po capitale due volte per due mondiali di fila ma che cazzo da dopo che vinte l'europeo ma che ma siamo proprio pazzi ma che sta cosa ma non esiste da due mondiali di filo ai tu o giovedì momento al 90 vergogna vergognatevi dopo si può che fa sì mandini dopo i supplementari arrivato a questo punto schifosi ma perché si sta a scuola arrivino che scrivono di amaro rischio